Grazie a tutti. Sì, nell'ultimo bollettino Asrem che riguarda i contagi da Covid, numeri pressoché stazionari, perché da 24 ore non si registrano positivi i dettagli, però ce li racconta Valentina Ciarlanta. Zero positivi per il quarto giorno consecutivo. Il coronavirus sta dando una tregua al Molise, peraltro dopo la guarigione della mamma e del bimbo Kosovari di Stanza Pesche. La piccola regione è tra le tre covid-free, insieme a Friuli Venezia Giulia e Basilicata. Nelle ultime ore sono stati processati 102 tamponi, tutti negativi. I positivi attuali quindi restano 33, di cui uno solo è ricoverato. Si tratta del papà, Kosovaro, che è ancora in malattie infettive, al Cardarelli di Campobasso e le sue condizioni sono stabili. Gli altri 32 positivi sono tutti asintomatici e isolati a domicilio. Diminuiscono le persone in quarantena, ora sono 49. L'Asrem prosegue con test e tamponi e anche con le visite domiciliari. A livello nazionale si è registrato un calo dei contagi, 259 totali nuovi casi, quindi circa 200 e meno rispetto al giorno prima. Il virus ora è in sei comuni del Molise, con 24 casi a Campobasso, 4 a Isernia, 2 a Campolieto, 1 a Boiano, 1 a Pesche e 1 a Aururi. Bene, allora adesso vediamo invece cosa scrive in prima pagina, primo piano Molise, in apertura si occupa di trasporti, Campobasso Termoli in treno, altra giornata da dimenticare, regione pronta a chiudere. Dopo il flop di domenica, pure ieri le corse hanno accumulato ritardi, l'assessore ai trasporti convoca Trenitalia ed RFI, giovedì il vertice pallante. Se i convogli non arrivano in orario è tutto inutile, rivediamo il piano. Fermati, durante la fuga feriscono i poliziotti, arrestati due tunisini, insieme a due connazionali, si sono allontanati ieri mattina dalla struttura di Campolieto, il terzo è stato rintracciato nel pomeriggio e sanzionato del quarto, ancora nessuna traccia. Il bollettino Covid, ultime 24 ore senza contagi né guariti, lo abbiamo appena sentito, poi gli eventi a Campobasso, ricco il cartellone estivo, il 24 agosto Niccolò Fabi. Campo Marino, malore in spiaggia, avani soccorsi, 84 anni perde la vita. Petacciato anche i 5 stelle contro il progetto di recupero dei rifiuti marini. Castel San Vincenzo, invitati a rispettare le norme anti-Covid, quattro campani mandano in ospedale i ristoratori. Sarascazzi, una serie tv tratta dal libro dei giornalisti Flavia Piccini e Carmine Gazzanni. Silurato dall'Aggiunta, Toma Gianrusso vuole lasciare la regione per andare a dirigere lavori pubblici e urbanistica di Campobasso. Giovani Democratici, Caterina Cerroni è la nuova segretaria nazionale, ma l'avversario ad ombra Brogli, il giallo conquista i media. Il punto, a firma del direttore responsabile Luca Colella, il bonus IMSS, la luna e il dito. Poi c'è lo sport, videosorveglianza, lavori terminati e siamo allo stadio Selvapiana, mercato dei lupi in attacco spunta l'ex maceratese Coco. Vasto Girardi, partito del ritiro a San Pietro in valle, crudele, i ragazzi sono in buona forma. Iserni ha preso il difensore classe 2000, Gabriele Sabatino. Spostiamoci sul messaggero, sgravi al sud, ma per sempre l'intervista a Giorgia Meloni che dice no alle misure a tempo. Servono infrastrutture e banda larga. La Svimez, nel mezzogiorno il virus ha cancellato il 6% dei posti di lavoro al settentrione, il 3,5%. Covid, allarme per chi torna dalle ferie, la rotta del contagio è da Pagacorfu, testo obbligatorio al rientro, l'esecutivo prende tempo. Il bonus del 110%, banche pronti a finanziare, privati ed imprese. Bielorussia, rivolta dopo il voto, 3.000 arresti. Manifestante investito dalla polizia, lo vediamo in questa sequenza di immagini, è morto, ma il governo smentisce. Il Corriere della Sera, virus, testi rapidi in aeroporto. Speranza, a breve i sireologici per i turisti che rientrano da Spagna e Grecia, gli scienziati. Timori anche su Croazia e Malta, il dato dei positivi in calo, 259. Bonus, primi ammissioni, l'amarezza del Quirinale, i politici locali si difendono, pressing sui nomi dei deputati. 3.000 arresti, Bielorussia nel caos, USA e Germania, voto compromesso. La Repubblica, lo scandalo dei bonus, mai più ai parlamentari. Norma retroattiva del governo per far restituire soldi anche a consiglieri regionali e sindaci delle grandi città. Nessuno dei 5 onorevoli esce allo scoperto. I 5 Stelle, rinunciati alla privacy, indagine della Lega tra gli eletti. Raggi, miri candido a Roma, dubbi dei grillini dopo il no del PD. Beirut, il premier si arrende, è la prima vittoria della rivolta. Voto, truffa in Bielorussia, scontri e sangue nelle strade. Arrestato il magnate Lai, l'editore che ha sfidato Pechino. Ed ora invece vediamo la prima pagina del Fatto Quotidiano che parla appunto dello scandalo dei bonus, ma dice, ecco i primi nomi, il fatto li chiede tutti. Dunque, parassiti del bonus, firmate la petizione sul sito e l'appello del fatto, legano commenti, i deputati sospettati, Dara e i Murelli non rispondono, caccia agli altri tre e ai duemila politici locali. La richiesta degli atti da parte del Fatto, all'Inps, gli elettori hanno il diritto di sapere. E andiamo ora invece sul Sole 24 ore, banche UE, il Covid costa 60 miliardi. Studio della Goldman sugli accantonamenti degli istituti nel semestre, le rettifiche prudenziali tre volte superiori a quelle dei primi sei mesi del 2019. Con i fondi europei ricerca green digitale più vicina all'industria. Foreste italiane crescono di 270 mila ettari in cinque anni. DL agosto previsti 400 mila posti sbloccati, 4 miliardi per le piccole e medie imprese. Trasporti, ferrovie dello Stato, commessa per i treni, freccia rossa della Spagna, 800 milioni è il valore appunto della commessa assegnata per l'alta velocità spagnola da Trenitalia. E andiamo in chiusura con la gazzetta dello Sport, ovviamente in apertura Volo Inter, Europa League 2 a 1 è in semifinale, una prova di forza, apre Barella, Lukaku trascina in erazzurri e segna un super gol. Al Conte, meritiamoci la finale. La mia Atalanta d'Italia invece è l'intervista esclusiva al presidente Percassi che dice una bellissima annata, andrò a Meggiugori per ringraziare e pregare. Atletico allarme rientrato ma il Covid blinda Lisbona. Prima di salutarci vediamo quali sono i programmi che andranno in onda oggi sulla nostra rete a partire dalle 11 con fuoco incrociato, alle 14 saremo in diretta con tutti gli aggiornamenti del telegiornale alle 14.30 salute 4.0, alle 16 fuoco incrociato 18.30 Musa TV, 19.30 torna in diretta l'informazione alle 20 salute 4.0, alle 21 Marco Orbolle, alle 23 l'ultimo appuntamento con il telegiornale. È tutto anche per questa mattina, grazie per averci seguito e vi auguro un buon proseguimento di giornata.